Buonasera a tutti e benvenuti nella mia consueto appuntamento quindicinale. Dove cercherò di analizzare in breve tempo alcuni fatti che sono successi nell'arco di tempo dall'ultima trasmissione a questa. Bene, riempie oggi, in un po' di giorni, la notizia che Trump vuole portare l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendo che Gerusalemme è la capitale naturale di Israele. E questo va a innescare una serie, è andata ad innescare una serie di manifestazioni e anche repressioni dalla parte delle forze dell'ordine israeliane. Da una parte si lanciano razzi, dall'altra si uccidono le persone. Quindi poi quando si arriva a un certo punto, a un certo livello di provocazione, poi è difficile dire chi ha iniziato per primo e chi ha iniziato dopo, per cui uno ha ragione e l'altro ha torto. Ma proprio oggi, oggi 11 dicembre, ricorre il centenario dell'entrata delle truppe inglesi a Gerusalemme con l'insolvimento dell'impero ottomano nella prima guerra mondiale. Le truppe inglesi, poi fra l'altro, assieme a distaccamenti francesi e italiani, è una cosa che io non lo sapevano, nonostante fossimo impegnati nel fronte del Piave nella prima guerra mondiale, è un distaccamento di bersaglieri, ha voluto partecipare all'entrata in Gerusalemme l'11 dicembre del 1917. Quindi questo coagulo di stati e di nazioni, c'è questa ripresa della Gerusalemme come un po' una ripresa delle crociate, finalmente, della dissoluzione dopo 400 anni dell'impero ottomano, finalmente arriva la possibilità di liberare, tra virgolette, Gerusalemme. E da lì poi mi sembra che c'erano 150 mila ebrei a Gerusalemme contro mezzo milione di arabi, musulmani, eccetera. Ma non è questo, perché io non sono per le nazioni, sono per l'internazionalismo proletario. Per cui vorrei accennare, apporre un punto di riflessione su tutto quello che sta succedendo oggi dove si vedono i palestinesi, diciamolo, molto incazzati nei confronti di Trump e degli Stati Uniti per questa decisione di portare l'ambasciata americana a Gerusalemme, vorrei dire questo, ha ancora senso chiedere uno Stato ai proletari palestinesi, chiedere ancora uno Stato palestinese e che tipo di Stato si vorrebbe, uno Stato borghese come esiste ormai dappertutto dove vige il lavoro salariato, dove vige la borghesia e il denaro e quindi ci si mette uno contro l'altro. O invece i proletari palestinesi sarebbe più utile che cercassero un collegamento con i proletari di tutto il mondo, quindi quell'internazionalismo proletario, perché altrimenti rischiamo, come anche l'ho detto un tempo fa con la Catalogna, che i proletari, cioè gli ultimi, quelli che poi alla fine lottano, si fanno massacrare, fanno il gioco di una borghesia o dell'altra. Sono oggetto di strumenti da parte dei potenti e quindi siamo manovrati per altri obiettivi che non sono certamente quelli dei proletari, che è quello del superamento di questo sistema basato sullo sfruttamento del lavoro salariato e del capitale. Io vorrei porre, io non sono uno che può incidere molto, ma se c'è qualche, quelli di sinistra, che poi adesso sono tutti filopalestinesi, sono per lo Stato palestinese, due Stati, Stato palestinese e Stato israele, due Stati che vivono pacificamente assieme. Ecco io vorrei porre questo Stato, ma che tipo di Stato vogliamo? E i proletari devono lottare per una borghesia nazionale o non è superato ormai il tempo delle lotte per le borghesia nazionali e quindi i proletari palestini di collegarsi con i movimenti, e i proletari delle altre nazioni per un più vasto movimento internazionale per il superamento di questa società basata sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo? Ecco io pongo solo questa domanda e poi vorrei, se ci fosse la possibilità, di aprire un dibattito su questo. Questa è la prima notizia, io continuo con le notizie rilevando un dato che è apparso sulle teleriunioni del resoconto delle teleriunioni dell'organizzazione N più 1 che tutti quanti voi potete leggere o perché sono pubblicate su internet o assistere a queste riunioni settimanali, poi fa anche bene ogni tanto sentire lo svolgimento secondo un'ottica diversa da quella che si sente sui giornali, per la televisione, sui media nazionali, un'analisi del momento, della situazione. Ecco basta collegarsi a quinterna.org e lì potete trovare tutte le notizie per poter collegarvi a queste teleriunioni. Vi leggo alcuni brani che ho trovato molto interessanti, nonostante si dica i nostri governanti e i nostri premier ci dicono che ormai la crisi è finita, il tunnel, ormai la luce sul tunnel non è che si veda ma siamo illuminati dalla luce della fine del tunnel, ecco appare, quindi loro dicono alcuni organi di stampo usciti questi giorni hanno forniti alcuni dati interessanti riguardanti la finanza. e chi sono? Sono questo, il primo è le borse mondiali capitalizzano 100 mila miliardi di dollari ma per Goldman Sachs la corsa è finita, pubblicato dal sito in internet che è Business Inside e poi andrò a leggere perché sono interessanti le cose e sul secondo articolo che fa spalla a questo apparso su Business Inside il 4 dicembre di quest'anno c'è un articolo del sole 24 ore è un articolo scritto da Vito Lopes il 5 dicembre e si può leggere anche questo sul sole 24 ore e cosa dice questo articolo? Il titolo è questo Borse da record, ci sono 100 mila miliardi di motivi per chiamarla borla, o è tutto vero? allora cosa dice Business Inside che poi viene ripreso anche dal sole 24 ore quindi sono due voci che analizzano la stessa situazione però danno tutte e due, dall'analisi traggono le conseguenze che questa sarà l'inizio di una nuova bolla o via dicendo allora quando si parla di capitalizzazione la capitalizzazione non è niente altro che il valore totale del mercato azionario del mondo il valore del mercato delle azioni, lo dico prima, il mercato delle azioni può essere il valore di mercato delle azioni di una società è ottenuta moltiplicando il prezzo dell'azione per il numero delle azioni in circolazione facciamo un esempio se un'azienda vende un'azione sul mercato al prezzo di 10 euro 10 azioni sarà il valore di 100 euro però il valore del mercato delle azioni può essere notevolmente superiore al valore nominale cioè questa azione può essere di 10 euro però sul mercato e chi acquista casa sa benissimo qual è il valore di mercato e il valore reale della casa lo vede sul rogito con il quale stesse azioni sono state collocate sul mercato per esempio questa azione vale come esempio prima 10 euro ma la metti sul mercato, quindi sulla borsa per avere quella azione cioè per avere partecipazione agli utili di quell'azione uno è disposto anche a comprarla a 110 quindi il prezzo di mercato sale e l'articolo dice vi poniamo un grafico che mostra il valore delle azioni di tutte le società quotate in borsa mondiali tecnicamente equivale la capitalizzazione di borsa dell'intero pianeta Terra e chiunque lo veda rimane senza parole negli ultimi mesi il World Market Cup che sarebbe la capitalizzazione mondiale in inglese è schizzato a quasi 100 mila miliardi di dollari allora cosa dice questo? che l'aspetto preoccupante del grafico è quest'ultimo rapido picco segnato nel 2017 fino a quel momento il World Market Cup aveva lo stesso aspetto di qualunque altro indice azionario una serie di incrementi graduali nel tempo con una flessione pronunciata intorno alla grande crisi del 2008 ma questo cos'è il problema? il problema nasce analizzando questa situazione perché nel medio periodo c'è questa domanda ci si aspetta una lenta sofferenza o una rapida sofferenza nel senso che c'è un ritornare al valore normale delle azioni l'analista di Goldman Sachs Christmas Müller-Klisman e i suoi colleghi hanno pensato che il Bull Market il Bull Market sarebbe il ribasso del valore su qualunque cosa stia volgendo al termine e qua fanno una specie di medi però della percentile di valutazione tra azioni, obbligazioni e credito è la più alta registrazione del 1900 e quindi per farvela breve qui prevedono che prima o poi ci sarà un ribasso ci sarà un crollo quindi un'altra bolla o ci sarà un lento declino anche perché se succede se dovesse succedere ormai tutti gli stati per fare affronte a tutta questa marea di denaro che è stata creata non hanno più risorse per salvare il sistema finanziario ma quello che è interessante soprattutto visto che si parla di pensioni integrative come per esempio nel mondo del lavoro ormai da tanto tempo la pensione ci sono i fondi pensione i fondi pensioni integrativi comunque la loro analisi alla finale ovvero un ventaglio di investimenti composto dal 60% o da titoli quotati sull'indice Standard & Pool 500 e per il 40% da titoli di Stato e dice tipico mix che trovereste in qualsunque fondo pensioni privato in altre parole esattamente il tipo di investimento sul quale probabilmente una persona fa affidamento in vista della pensione i titoli di Stato sono usati in genere come copertura di rischi associati alle azioni perché mantengono spesso il proprio valore quando i titoli azionari crollano attenzione lo dice questo l'attuale percentile di valutazione è comparabile soprattutto a quello della fine degli anni 20 del secolo scorso che sfociarono nella grande crisi di depressione e cosa dice il team di Goldman l'ambiente favorevole a livello macro ha dato un impulso agli utili trasversalmente ai diversi asset favorendo un bull market su qualunque cosa un bull market è un rialzo su qualsiasi cosa delle azioni malgrado l'inflazione nell'economia reale sia stata modesta e proprio perché lo è stata di conseguenza però la valutazione dei diversi asset sono elevate rispetto ai livelli storici il che riduce il potenziale per la generazione di utili e la diversificazione inoltre le valutazioni elevate incrementano il rischio di flessioni per il semplice motivo che esiste un margine inferiore per assorbire eventuali shock la media del percentile di valutazione fra azioni obbligazioni e crediti e credito dello Stati Uniti è al 90% un record storico mentre ai tempi della bolla dei titoli tecnologici le azioni e il credito erano più costosi le obbligazioni godevano di un'attrattiva comparabile l'attuale percentile di valutazione è comparabile soprattutto a quello della fine degli anni 20 del secolo scorso che sfociarono nella grande depressione alla faccia dei nostri politici che si dicono usciamo ma siamo usciti dalla crisi vediamo l'uscita dal tunnel e di pari passo eppure l'articolo del sole 24 ore del 5 dicembre borse da record ci sono 100 mila miliardi di motivi per chiama la borla bolla o è tutto vero e più o meno riporta la stessa analisi quindi se oggi scoppiasse una crisi finanziaria come quella del 2008 non sarebbe possibile ricorrere a salvagenti questo dicono quelli dell'organizzazione di np1 sto leggendo il resoconto utilizzati allora per fermare l'emorragia date le masse di capitale in movimento nessuno stato avrebbe la capacità di intervenire per invertire il trend come tuttavia l'economist qualche mese fa le munizioni a disposizione sono state tutte consumate l'iniezione di 12 mila miliardi nel circuito bancario americano è rimasta senza effetti lo scenario che si configurerebbe sarebbe perciò dei peggiori se non apocalittico la presenza contemporanea di una bolla immobiliare un'inflazione a due o tre cifre è una stagnazione totale con la bolla dei muti sul prime la borghesia di tutto il mondo ha preso una bella paura ma ha tenuto il collo ha temuto il crollo dell'intero sistema come ben rappresentato dal film e qua cita una serie di film come la grande scommessa oggi di fronte a un nuovo shock si troverebbe ancora più disarmata e proprio su questo oggi si parlava dell'entrata dei bitcoin nel mondo finanziario che ha avuto un valore enorme un'azione hanno analizzato i compagni il bitcoin in cui si dice che l'estrazione della criptomoneta quest'anno ha consumato più energia di quella impiegata da 159 nazioni medioannua se ai suoi esordi si trattava di un campo da esclusivo appannaggio dei pochi esperti o la generazione di bit moneta e fonte di lauti guadagni e di speculazione soprattutto di speculazione quindi siamo non so come si possa prospettare un scenario roseo come fanno i nostri politici lo scenario è tutt'altro che roseo e vi do così anche per fare un po' visivamente quant'è il debito mondiale dice doperiamo un'unità di misura di 50 euro bisogna impilare due metri di banconote nuove da 50 euro per fare un milione di euro due chilometri per fare un miliardo di euro duemila chilometri per fare un biliardo o trilione di euro cioè due volte Torino e Bari l'Italia ha un debito di due biliardi cioè trilioni di euro che vuol dire quattro volte Torino e Bari all'inizio della crisi il debito pubblico mondiale era di 33 trilioni di dollari oggi è quasi il doppio una cifra paragonabile al PIL mondiale se la domanda è questa se l'economia è rimasta stragnante dove sono finiti i 33 trilioni ecco questo è un po' anche questo è un po' da pensare e da riflettere nel senso che ormai questo sistema è arrivato alla frutta e non ci sono e gli scenari non sono rosei e volevo finire così in modo più leggero con la notizia vi ricordate quella della lavoratrice licenziata all'IKEA da un algoritmo quindi da una macchina ebbene il sistema delle macchine è stato analizzato molto molto bene nel libro del capitale di Marx basta leggersi il capitolo tredicesimo macchine e grandi industria e quello dell'IKEA dice no guardate è impossibile con tutti i dipendenti che abbiamo è impossibile fare ancora la turnazione a mano e ha ragione perché tengono una serie di parametri ma non è colpa della macchina perché questa lavoratrice è stata licenziata è la macchina da chi viene adoperata e per quali fini viene adoperata la macchina o il sistema informatico oggi sono programmati per estrarre profitto dal lavoro non per agevolare il lavoro delle persone e quindi è come le macchine sono adoperate non è il lavoro delle macchine che rovina l'umanità è il sistema basato sul profitto che ci rovina e che sistema allora c'è in alternativa beh io non mi invento niente ripeto quello che dice Carlo Marx che ha analizzato il sistema di produzione capitalistico e dicendo che non si può immaginare una società diversa se già nella società in cui viviamo non ci sono i germogli di una società diversa se non vediamo il tipo di società diversa il tipo di società diversa lui la vede nel lavoro della fabbrica dove il passaggio di lavorazione da un semilaurato all'altro per arrivare al prodotto finito in base a un progetto che viene creato non c'è un passaggio di valore non è che un reparto vende le cose all'altro reparto perché finisca il lavoro e avanti così e poi alla fine in magazzino chi ha il magazzino deve pagare tutto il lavoro precedente no è quando esce dalla fabbrica quindi quando entra nel mercato che diventa a merce e questo è il sistema cioè un sistema una società basata tipo produzione di fabbrica dove c'è un piano di produzione in armonia con l'uomo e l'ambiente e dove tutti lavorano per raggiungere questo obiettivo tutti mettono il proprio tempo di lavoro a disposizione per raggiungere l'obiettivo ecco è questa la società programmata che noi dobbiamo mirare non alla società dello spreco come la società dove viviamo oggi del libero mercato dove viene prodotto non per i bisogni dell'umanità ma vengono prodotti soltanto per il mercato per la fine per il profitto ecco quindi quando qualche benpensante si meraviglia dell'algoritmo che ha licenziato questa sfortunata lavoratrice e qui invece quello che manca è la solidarietà delle organizzazioni sindacali di noi tutti per porre in luce questo per porre in luce questo sistema che fa sì che le macchine ci ritorcano contro anziché agevolarci per il nostro lavoro vi rilascio anche questa settimana con questa riflessione sulle macchine vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo fra 15 giorni ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti